L'indagine è iniziata perché nell'ultimo periodo c'è stata una forte, diciamo, recrudescenza di furti, di componentistica elettronica e strutturale dall'interno di auto di alta gamma. Ovviamente, incuriositi da questo particolare tipo di furti, abbiamo approfondito i singoli furti che c'erano stati e questo ci ha portato sulle tracce di alcuni soggetti che erano sospettati di poter essere i probabili responsabili dei reati. E proprio nella notte dell'11 novembre scorso siamo riusciti a intercettare i responsabili di questi furti durante la notte. Avevano appena compiuto ben cinque furti. In flagranza di reato siamo riusciti anche a recuperare tutta l'area furtiva che era stata, diciamo, prelevata dalle auto nell'arco della nottata. Probabilmente erano destinati ad alimentare mercato nero o comunque mercati paralleli. Probabile che siano destinati all'estero, infatti, ma anche in Italia, è probabile, ma siamo riusciti ad intercettarli prima che potessero affrontare un lungo viaggio per l'est Europa. Possiamo tranquillizzare adesso i pesaresi proprietari di BMW? Siamo riusciti con la perfetta sinergia che c'è tra forze di polizia e autorità giudiziaria a bloccare questo fenomeno molto fastidioso e anche, direi, inquietante, soprattutto in un periodo storico molto delicato dal punto di vista economico.